Grazie Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle a questa mozione. Effettivamente è un argomento che abbiamo trattato, appunto siamo stati in sopralluogo con la Commissione diversi mesi fa ed è vero, in quell'occasione l'ingegner Rocchi annunciò l'imminente pubblicazione entro il mese di ottobre di un bando per raccogliere eventuali manifestazioni di interesse al fine di portare a compimento il progetto però da quel momento nessuno ha più avuto notizie, quindi anche noi stessi, sia io, l'assessore Frongia abbiamo scritto effettivamente all'ingegner Rocchi, all'ufficio multiverde e qualità per chiedere aggiornamenti ma non ne abbiamo ricevuto, quindi ci uniamo a questa richiesta con una piccola precisazione ovvero che il progetto effettivamente denominato Città del Rugby prevedeva la realizzazione anche di una pista per il ghiaccio tante altre strutture e probabilmente c'è il dubbio che un impianto per il rugby forse adesso non potrebbe essere più di interesse anche perché come mi sembra è stato detto in realtà è stato costruito tanto e di fatto ora non ci sono più gli spazi per realizzare un impianto di rugby che sia omologabile, quindi con questa piccola precisazione noi appunto confermo che siamo favorevoli con questa richiesta, grazie grazie grazie